Ha riportato traumi e lesioni guaribili in 15 giorni l'autista catanese che si trovava alla guida del carro attrezzi Iveco che è precipitato sui binari all'altezza di Rometta dopo l'impatto in autostrada con un pullman della linea Interbus. Inizialmente le condizioni dell'uomo sembravano più critiche, al punto che lo stesso è stato trasferito con l'elisoccorso all'ospedale Papardo. L'uomo nel volo di circa 6 metri che ha fatto seguito all'impatto con l'autobus è stato infatti sbalzato fuori dall'abitacolo. Ha riportato trauma cranico e facciale e i sanitari hanno lavorato a lungo per comporre le profonde ferite al volto. L'incidente è avvenuto intorno alle 14.30. Fortunatamente era già transitato il treno regionale Palermo-Messina e nessun altro convoglio stava sopraggiungendo mentre il carro attrezzi che trasportava un gommone finiva la sua corsa sulla linea ferrata. Toccherà adesso al personale della polstrada di Messina accertare l'esatta dinamica dell'incidente che si sarebbe verificato al termine del tratto in cui le due corsie di marcia risultano separate da Biriglia all'altezza dello svincolo di Rometta. Secondo una prima ricostruzione il carro attrezzi viaggiava in direzione Messina-Palermo quando sarebbe avvenuta la collisione. Il mezzo ha poi divelto il guardrail. Quattro dei passeggeri dell'autobus si sarebbero recati in ospedale per farsi medicare. A seguito del sinistro il traffico ferroviario tra Milazzo e Messina è stato interrotto fino alle 18 per consentire tutti i rilievi del caso.